bella ragazzi stellaris console edition c'è new game load multiplayer setting paradox account yes e andiamo con allora ragazzi non c'è l'italiano vediamo se ok allora limite allora buongiorno tutorial grande decisioni research technology ok allora qui abbiamo il the outline is where we can view research the technology screen is a segno scienziato select the resource allora segna scienziato dai ok seleziona risorsa costo ok seleziona risorsa coligan ok perfetto allora seleziona la ricorsa new characters, new must win, expansions ok adesso ok si può mettere in pausa se clicco access to colonizzazione allora penso che si può tutorial research technology manage time research quantum off colingo planeta ok pianeta featuring pianeta featuring pianeta featuring popse research food governatore ok allora pianeta featuring scandinavia reclame sector sharing monopolio andiamo con 4 no non si può cliccare quindi nulla vale status research ha tutto di fianco industria administration office chiaramente non si può fare nulla perché che cosa non abbiamo cosa non abbiamo 360 di tempo e 400 e 400 stelline quindi niente qua non si può fare nulla vediamo che man mano sulla barra sopra scorre tutto settori terra su civilian ship ah eccolo qua i militari per management contatti situation tecnologia market cosmografico l'unico web sconsore governatore nome distretto società espansione espansione è sempre con le armi eh siliziati le navi ah sono solo due per adesso adesso siamo sulla terra marketplace per comprare qui è la tecnologia pian pianino stanno andando avanti in the contact screen we see a detail letter of the ear empire the government screen presents with information regarding the force government prosperous unification diplomacy democracy allora lo scopo del gioco dovremmo riuscire a capire tutto da metto uno gas ground abitabilità zero calisto abitabilità zero uranio zero ragazzi non si può abitare su questi pianeti star base modern building dismantling ce l'abbiamo quello questo che cos'è necessario support growth navi ahhh difesa eh difesa eh difesa 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 oh man ci siamo spostando ah 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 allora allora ragazzi qui il problema fondamentale è che c'è un sacco di cose da fare ma sono no allora diciamo che si può anche velocizzare credo eh esatto è bello complicato tante cose da fare bisognerebbe capirlo bisognerebbe capirlo per bene bisogna creare le cose man mano che si hanno le risorse su tutti i pianeti eh non penso che sia una bella idea andare nel sole eh ok entro l'orbita entriamo nell'orbita della terra della terra della terra prossima centauri eh alfa centauri oh questa qui abitabilità non si sa eh non si sa quindi io per andare con la navicella qua oscuro per andare con la navicellina qui non sappiamo nulla eh non sappiamo proprio nulla di nulla noi sappiamo solo della nostra piccola parte dell'universo ah toxic world che skill è? venus venere martino eh martino anche lui non pensavo che la luna si potesse abitare eh vi dico la verità però a quanto sembra a quanto sembra non non si può non si può ok oh select grandi ok bisogna fare un po' quello che dice lui eh ok 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 science ship ok selezioniamo change over change over ok 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 erboring dov'è il nurboring qua ah 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 seleziona multi selection look at devo selezionare con il corso move selector a neighboring start of processing ok order move here of neighboring start of processing ecco la che ci siamo già fermati vediamo se abbiamo fatto giusto no ordini allora ragazzi bisogna un po' Nurburgring. ha detto, Nurburgring....no nurburgring oria Anders flat Usnobil Marco Dranz, nave 1, proprio aertop, aertop, aertop. Allora lui dice di, allora, with the cursor, move and selection, one of the starts of processing, ma che stai a D? Move server. Forse è qui, controlla eh, sta controllando, sta controllando che cosa, che cosa c'è sul pianeta raga, Sirius 2, allora sono giochi molto belli, oh hai visto? New research, bella, lì brava, duemila, urca, ok, no shine test, facciamo lei che mi sembra, un gamba. Ok, the change ship, oh, enduring, research, should I? The change ship is waiting, you can follow this system? Ok, facciamo così. Ok. Perché adesso devo fare quello che mi dice class A, devo fare quello che mi dice il tutorial. Allora, send you on on, on world to research, say private collector, research. Human technology, Ñtanto, tanto inglese raga eh, yes, caution, no no andiamo a cauti. intanto mi sta scoprendo tutti i pianeti la presa Construction Ship From Galaxy Map Curso Surgery System Ok Credo Surveillance System Ok, credo che l'ho costruita Enter Orbit Sta costruendo la nave Oh Oh Science Ship Ok Construction Ship Ok With Co Seleziona Research Complete A stiamo creando una nuova stazione su il nuovo sistema Sirius di coprire il mio presidente bella ok allora bisogna capirlo un po' raga perché allora construction ok il presidente ciao ciao presidente allora research research allora new technology research station construction ship seleziona questo penso che bisogna andare su tutti i pianeti a fargli il a costruire vedi quello c'ha le risorse c'ha i diamanti società società risorse presidente ciao presidente ok no allora diciamo eccolo qua build research seleziona build research station construction ripara qua non c'è bisogno di riparare patrón no di noi possiamo lasciare pure questo ordina ordina e se andiamo qua allora allora construction ok 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 decursor select non si può selezionare non si può selezionare no sono uscito allora research dobbiamo dobbiamo prendere queste risorse però bisogna capire build megastrutture let's patrón patrón allora diciamo che è un po' incasinato però allora lui quello che vuole è allora vedi l'improv situazione log updated allora wither research station should this possess psich società e engineering select station from marci or mini station select physical society and research selezione construction ship with the cursor all'ora seleziona ordini non c'è nulla è un po' un po' un casino allora di per drive radar queste queste sono dell'anarmi queste sono cose comando comando come build research station amico mio è un po' one cousin è un po' un casino vi dico la verità ma è un po' un casino capire quello che vuole lui multi perché non mi fa fare allora questo è successo oh god non so research build research station aspetta che dobbiamo andare select research sempre oh ok ok i nostri scienziati intanto stanno stanno facendo bello peccato davvero che non fanno non fanno nulla in italiano la la paradox è davvero un peccato perché qui ragazzi ci voleva davvero poco a capire cosa fare però così seleziona build research station ma dove la soluzione è davvero allora è solo questione di tempo muta power se noi dobbiamo colonizzare tutti i pianeti seleziona la ship quanta roba eh construction from the outer line construction with the cursor e chiacciamo x poi non so bocca a nulla ok scansati qui è successo qualcosa riformiamo l'editocrazia ok non si fuori col mannagotto tantissime cose ragazzi però questa è la fondamentale di fare una stazione Barnett Ward ma questa forse perché ce l'abbiamo già Marte non si può fare nulla 79 giorni raga 10,9 uh come fila come fila sta stranave eh ma gli ordini non è che ci si può dare no raga non riesco a capire non riesco a capire questa parte del tutorial eh l'hanno un po' incasinato nel senso seleziona allora l'outliner le chiesci construction construction ship construction ship x ok due selezioni con il cursore il cursore il cursore è il mio cursore seleziona a physical engineering qua qua sulla luna select build research station ok dov'è tre tre dovrebbe tipo schiacciare dov'è research return ripara patrol iniziale special no inizia al salto patrol no è un casino raga eh all'una vedi c'è quattro cose perché non mi fa selezionare che poi quando è così vicino fa anche cioè qua doveva esserci costruisci qualcosa c'è capito invece è incasinato davvero parecchio eh costruzione costruzione 3 build research station sul destra non mi fa fare nulla sul sinistro non mi fa fare nulla o sta arrivando ma che bella che è è l'uomo c'è l'uomo la terra luna la luna due giorni eh vai e vai motorino E' questo che non riesco a capire Lula Station of the Earth Seleziona Free Together Ma quando sono nel menu Della nave E' solo queste cose da fare Qui non mi Non mi fa nulla Stop Return Repair Controlla Jump Distruggi E' cosa vaibile Quando io faccio così Dovrebbe Darmi qualcosa Da costruire E non me lo da Vabbè Exit menu E' bello difficile Poter Fare qualcosa Senza Capirci proprio tanto Raga Eh si Sono sicuro di partire Ma Sono sicuro di fallire Anche Allora andiamo subito A capire Le risorse Ok Pace sempre E andiamo con Queste risorse Intanto loro Stanno Stanno Risorgendo Ok 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 Questo praticamente Tutorial Dice tutto Insomma Alla fine Della fine Raccoglio Poi Andiamo A Oh Allora ci mette 124 giorni l'aria e quando ci passa vediamo se riusciamo a farlo senza senza neanche ha confrontato tutorial ok allora sta arrivando la nostra navicella ok move here ah è arrivata building station research station ma non può fare nulla non può neanche fare la ricerca perché non mi fai la ricerchina amica mia è sempre il discorso no ma questo forse lo conosce già sto pianeta per quello che non mi fa move here se è una è una nave ah no aspetta science eccolo qua survey system è la cosa degli scienziati seleziona vai move here 38 giorni vai fischia se corrono survey adesso sì che stanno scoprendo il nome eccolo che si sposta e scopre tutti i vari nomi dei piccoli il vero problema è portare invece un'altra astronave e e farci qualcosa di serio adesso aspettiamo che fa oh hai visto fa un server ok perfetto no questo sta bene che cosa fa field science ok construction allora qui di certo non si può costruire niente ok ok adesso sto costruendo un probabilmente devi trovare il pianeta in cui ti fa costruire le cose se tu gli clicchi non te la fa costruire vuol dire che non va bene construction complete ok ok building building meaning station ok ok qui non mi fa costruire nulla in teoria doveva farti costruire tutto quando ti va su ti dice qua puoi costruirci qualcosa o non puoi costruirci nulla questo che non riesco a capire ok seleziona target o qui c'era qualcosa tipo costruirci insomma vedete come quando sono andato qua vediamo qua quello è solo un asteroide ok ok qui non si può oh oh bravissima upgrade to starport bisogna pian pianino defense ok per per Ok, gli abbiamo dato Un'altra Un'altra Ok Ok Allora qui C'è qualcuno che ha Ha costruito qualcosa Sì, va bene Forse sto facendo una guerra Senza neanche saperlo Difense, difense Ok Allora Gun Missile Create ever quartered Ok Quindi finiamo Questo Defense Allora battery gun Vediamo un secondo Il tempo che ci mette Qui forse C'era qualcuno Che aveva smesso Esatto Fusion E qua è più avanti E qua è più avanti Adesso me lo sbatterà Nei moduli Per poter aprire altri Bisogna Upgradare tutto Upgradare tutto Nei moduli E qua è più avanti Di Quindi mi piace. With a sword class. Mamma mia quanta roba da leggere ragazzi. Quanta roba da leggere. Allora come gioco è completissimo. Avete visto tutto dall'alto. Tutto un gestionale. Un gestionalozzo eh. Però ragazzi. Upgrade. No. Downgrade no. Upgrade non si può fare niente. Defense platform. E quindi qua diciamo. Qua c'è Marte eh. Grade vedi. Mi avevo costruito un botto. Enter orbit. Se solo upgrade. Ci sono navi per tutti i gusti eh. Get start. Una stazione di ricerca in orbit. C'è un sacco di. Allora roba fondamentale che. Vedi che abbiamo fatto la prima rotta. Allora qui. Bisognerebbe. Bisognerebbe. Tra di app verso. Successful transition. Oh. Sì. Allora. Oh. President. Vuoi unirti a noi? Certamente. Andare. Su. Il system. Vediamo. Quanto tempo. Ci mette. Ah. Già qua. Ok. Bravissima. Research. Andiamo quanto. Tempo ci mette. Arrivare. Intanto c'è stata una bella riunione generale. Dove si parla un po' di tutto. Un po' di niente. Allora questo gioco mi intriga tantissimo. Vi dico davvero che non riesco a capire la motivazione per cui. Sì probabilmente sarà che non compriamo tanto questi giochi ma per cui. La software house non traduce assolutamente niente in italiano. Anche se era fatto tipo. Alla blanda senza che dovesse pagare qualcuno per tradurre sinceramente sarebbe stato. Un altro gioco. Un altro gioco. Fatto benissimo. Eh. Però così in inglese. È un po' limitativo. Sinceramente. Research. Ok. È un po' limitato ragazzi. Però. Allora. Fire Build Station. Perché mi ha detto che non. Non si può fare. Forse perché è la stessa nave. Che mi sta costruendo la roga. Ok. Forse sì. Forse sì. Forse proprio la stessa nave. Forse sì. 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 perfetto così facciamo allora perché quale motivo mo che già qui la nave non mi fa ricercare sempre lo stesso motivo ragazzi che non mi fa ricercare le cose quando ok e niente allora abbiamo diciamo preso guardate guardate di migliaia di pianeti da esplorare ragazzi il problema sostanziale è creare un come si dice allora gli scienziati no gli scienziati stanno ancora andando avanti vedete che stanno allora ok è questo che allora di star is not with all borders eh all borders ok non non saprei cosa dirvi ragazzi diciamo che bisogna andare qui e scientist costruzione 96 giorni diciamo che questi arrivano construction e non fanno assolutamente nulla va ragazzi dai allora scappo of the materials vediamo solo se mi fa costruire qualcosa assolutamente no quindi salviamo entry salvato così proprio è come il nulla vi ringrazio ci vediamo al prossimo di stellaris sempre se vi piace scrivetelo nei commenti mi piace scrivete che volete altri video di questo gioco purtroppo la paradox frega nulla di tradurre in italiano ed è una cosa veramente triste perché io non comprerò mai giochi paradox completamente in inglese perché purtroppo non li capisco a pieno ci vediamo al prossimo video su youtube seguite anche tutti gli altri video che faccio e ci vediamo anche live su twitch seguite anche i miei social su youtube facebook twitter instagram tiktok e disco ciao ragazzi vittici da stellaris console edition e tutto ci vediamo alla prossima puntata forse forse dipende dai commenti che fate ciao